è il caso di lucia radosevic il silenzio delle stelle attraverso maria teresa g lucia radosevic a quale punto di incoscienza può arrivare l'essere umano proseguendo su questa strada come può l'umanità nutrire una ragionevole speranza per un futuro migliore ditemelo francamente siate onesti e poi vi domandate perplessi indignati perché tanti vostri ragazzi si perdono nella droga o si suicidano senza una motivazione apparente vi domandate perché si prostituiscono rubano o ammazzano con estrema disinvoltura magari per pochi soldi nella grande ribellione degli ultimi tempi fratelli miei e l'inconscia risposta ad un mondo che sta precipitando ormai guasto ormai infrantumi ormai privo di veri valori oggi vi lascio a questa riflessione con tutto il mio amore con tutte le mie benedizioni commento spesso le entità di media evoluzione che come tali hanno una visione molto limitata della realtà mostrano un pessimismo catastrofico nei riguardi della futura condizione umana è il caso di lucia radosevic i maestri immateriali ripetono invece che tutto è per il meglio un po' di più Grazie a tutti